Siamo con il capitano del Gasperina, Sassà Agresta oggi. Cosa ne pensi di questa partita oggi, Sassà? È stata una partita difficile, siamo riusciti a essere cinici finalmente. Di solito facciamo tante occasioni, oggi alla prima occasione abbiamo fatto gol e ci è andata bene. Il Ponte Grande oggi va dato filo da torcere? È una bella squadra, si. Se l'è giocato con tutti, con il Cuturelli, il Gemigliano e se l'è giocato anche con noi. Complimenti. Il Gasperina adesso è in vetta solo, fino a che ci sono le altre partite. Per il proseguo del campionato come la vede la situazione? Noi vogliamo vincere il campionato, quindi ci sono tante squadre quest'anno che ci danno filo da torcere, ma noi siamo lassù, rimaniamo fino alla fine. Oggi grande partita del capitano Sassà Agresta, da Ponte Grande è tutto, arrivederci alla prossima.